Popolo della musica, 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 vi ritrovate anche quest'anno ormai giunto al table. E noi Sara Bambiani, protagonisti dell'ultima edizione del giugno 2017. Io, Evalbetti, Davide, il nostro dizì, Uomo Gatto, Luca Diomedi, altri amici, Cristian Codoletta, Cristian Corticelli. Ci tenevamo a creare e dedicare questo simpatico messaggio a voi e alle vostre famiglie. Vi auguro di un buon Natale ed un buon 2019 musicale. 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 Musicale, avete capito bene. Non dimentichiamoci di dire una cosa importantissima. In una qualche maniera vi saremo molto vicini durante queste vacanze natalizie. Ci potete seguire nuovamente il 22 dicembre, il 29 dicembre e il 5 gennaio. 2019 saremo già nel nuovo anno. In prima serata su Italia 1. Quindi, amiche, amici, qualora ne aveste il piacere, fateci rientrare nelle vostre case. Perché vi regaleremo momenti di spensarezza e di allegria. Ed allegria. Ed allegria. Vi avete chiamato. Ragazzi, quindi vi aspettiamo su Italia 1 tutti. Vi aspettiamo su Italia 1. Vi aspettiamo su Italia 1. Vi aspettiamo su Italia 1. Di cuore il mio più grandissimo buon Natale e un bellissimo inizio di anno nuovo che vi porti tutte le cose più belle che vi posso portare. Tanti auguri da Igor, detto Cresta all'epoca. Un bacione. Tanti auguri da Fabrizio Micò, Inazio e Zizi. Da Indomino con una. Buon Natale a tutti. Tanti auguri da David Guarnieri. Allegria. Musica!